Se c'è, sta dietro questa Secondo me, non c'è lì dietro Non sto scherzando, può sembrare Io ho sfigato come sono È inutile che mi illudi, capito? Sicuramente è natura Dai, uno, due, finimo sta storia, vai Stiamo andando, eh Ovviamente è uno sneak peek bellissimo E non vuole essere messa in mezzo Comunque signori, stiamo andando Calma E come al solito siamo al nostro negozio di fiducia, ragazzi Qui facciamo il nostro sneak peek Lo facciamo in anteprima, oserei dire nazionale E qui vi consiglio di venire Perché c'è tutto, ragazzi C'è proprio tutto, tutto, tutto E siamo anche con la nostra Alessandra Grazie Io voglio ringraziare Alessandra, Riccardo e Simone Tutta l'attitudine 42 Per questo bellissimo sneak peek E adesso lo andiamo a vedere Salamagna, lui, attenzione Vediamo i nuovi mostri di Salamagna E arrivano Molto figli, molto figli, figli, figli Anche il monaco rombo di duono, figlio Il sincrono sai berzo Forse ci dovrebbe essere la carta Ok Ma molto figli, i tg ci stanno Io, i ladri del tempo Andiamo Prossimo pack Sono ancora ladro del tempo Flyback ladro del tempo, figli Salamagna, altri salamagna Salamagna Oh Signori, calma Attenzione Gli amanti del masso zombie Saranno molto contenti Mi sa, eh Io sono contento Attenzione Cataclisma guard Io? Chissima Quello la devi uscire a noi Attenzione Invenzione incantesima Ragazzi, ci sta andando bene Ci sta andando Molto, molto bene Tocca dire, eh Salamagna lupo I salamagna come arrivano Proprio imperterriti Attenzione Questo qua è lo zombie Degli zombie Bello Bortus Attenzione signori Per i nuovi assaltatori del cielo L'ammagliatrice del fuoco infiammato E drago crescente rosso Questa è una bella bestiolina, eh Ciranui scudiero Scudiero santo Successo stile Ciranui Mi piace quella carta Segreto leggendario dei sei samurai A chi servono i sei samurai? I guardraghi, ragazzi E i guardraghi belli famosi ci stanno E i magi dolci Arrivano anche i signori magi dolci Wicked cybersun Nucleo risveglio Ancora i guardraghi che Vengono a farcire questo set Lupino distaccato Questa è da attaccare in camera Tocca dire, eh E infine Sovra evocazione Vabbè Il primo pack, ragazzi Questo è il primissimo pack, eh Vediamo un po' che succede Questo qua farà schifo, ragazzi Il primo fa sempre schifo Niente E' andata male Diventeranno forte E' andata male Guarda qua La secret non esce ragazzi Non esce la secret Se c'è sta dietro questa Ma è una prima Sfigato come sono Ecco questo No Sfigato come sono Niente C'è andata male Credi me C'è andata male Girate Anto Come vede che Grazie Tanto Diceno schifo E' inutile che mi illudi Hai vinto In questi momenti C'è sempre molta emozione Sicuramente è una super Dai Uno Due Finimo sta storia Vai Mi trema la mano ragazzi Scusate se l'inquadratura Mi trema la mano Rimarrei a inquadrarlo Per tre ore Sì Penso che tutti Rimarremo ad inquadrare Le bellezze che sono uscite Ragazzi Dall'attitudine 42 Queste emozioni Ed altro Avete visto Guardate per esempio Questa bellissima saltatrice Questa ora fatidica Mamma mia Non potete capire quanto Mi piacciono le carte Sbrilluccicose Le carte Chi è Guardalo Cioè Che devi dire Io mi inchino Io non so Ragazzi Scusate So che posso sembrare strano Ma davvero Ragazzi Questo sneak peek Ci regala Tante cose Cioè ci sta regalando Questo mondo E quell'altro Per davvero Mamma mia Non capite Non capite che bella roba Neos Guardate il nuovo Neos Continua ad uscire Neos Yu-Gi-Oh! È davvero un gioco Perfetto ragazzi E anche se non sembra Vi assicuro È rimasto bello In qualche modo È rimasto bello Credetemi Datevi fiducia Dategli una possibilità Datevi una possibilità Di giocare Perché guardate Guardate Con carte come queste Possiamo dire Di essere davvero Al massimo Del gioco Direi che abbiamo visto Abbiamo visto abbastanza Roba Un po' Matta Si potrebbe dire No e non togliere il video Non ti azzarderà a togliere il video Perché adesso andiamo a provare tutto sul campo Ora come sapete C'è qualcuno che Come mi ha detto qualcuno su Instagram Non mi ricordo il nome Perché c'è Diceva Alla vecchia maniera Andiamo a vedere le cose Alla vecchia maniera Però ora ti diremo Quella a cui devi andare A puntare La prima carta che devi cercare È la Jara Della prodigalità Quella è fortissima In tutti i sensi Sia dal punto di vista Economico Perché varrà Sia no 50-60 euro Per non dire 70 Sia dal punto di vista Della performance Ragazzi I deck che saranno Revitalizzati Con quella carta Nemmeno lo sappiamo Adesso tra Banlist Che ci ha ridato Carte ottime E questo set Yu-Gi-Oh! È tornato giocabile In tantissimi versi Infatti mi sa che L'hanno fatta apposta Sti matti della Konami La Konami se l'è studiata Proprio bene ragazzi Mannaggia Quindi signori Eh già Eh già Jara della prodigalità È definitivamente La prima carta Che devi andare A rincorrere Ah siamo ovviamente A Borreload Savage Borreload è un'altra Carta stupenda Che va ad aggiungersi Alla famiglia Di Draghetti La terza carta Che devi andare A cercare assolutamente È Già ce l'hai In mente Già ce l'hai Ammettilo Colpo della strega Sarà una carta Da side Certamente Perché è più Un piano di riserve Però ha un effetto Fortissimo Nel momento in cui Riesci ad usarla Tu vai a spaccare Carte in mano E sul terreno Dell'avversario Non ha più Carte in mano A livello di archetype Continuiamo a sentire Perché qua Mo te diverti È uscito un archetype Che sta praticamente a centesimi So tutte comuni I ladri del tempo I ladri del tempo Ragazzi Molto belli Perché mi ricordano Slime Mannaggia Allora Se vuoi ricominciare A giocare a Yu-Gi-Oh Sappi che la Konami In questo set Ha messo carte Proprio per te Proprio per te Che non vuoi spendere Miliardi di euro La Konami Tra banlist E set nuovo Ha veramente pensato A tutti È veramente stata brava Ci è venuta incontro Sicuri che non si tratti D'un sogno No Questo è il set Spiegato per sommi capi Chiaramente Perché Sì stai tranquillo Non ti annoio Ora andiamo a distruggere Gli avversari sul campo E sarai ricompensato Per il fatto che Te sei sorbito Tutto sto pippone Però dovevo dirvelo ragazzi Perché in questo set C'è tutto Ed avrai la possibilità Sia di prendere carte A poco prezzo Sia di trovare carte Che te fanno Andare a cena Con la ragazza E La famosissima cena Offerta dalla Konami Ripetiamo È un sogno Che tutti noi Vogliamo coronare Quindi non perdiamoci In chiacchiere Ed andiamo subito A vedere come lavora La nuova giara Della prodigalità Vedete Già avevamo una bellissima mano Con la giara L'abbiamo rifinita ulteriormente Siamo anche con il magico moschettiere Quindi Il panico praticamente Adesso l'avversario Non può fare nulla Ok Ha anche un DDD Un bellissimo mazzo Ma che vedete Lo andiamo a destrutturare E andiamo a rompere le scatole In mille modi Oddio C'ha anche droll Comunque L'avversario anche se la batte Però vedete Noi siamo più forti Abbiamo più risorse Anche in questo caso One for one Annullato L'avversario comunque Non ha più nulla in campo Perché? Perché un'altra giara Della prodigalità Quindi perfetto Vedete Perché abbiamo tante tante risorse In più Vinciamo di vantaggio carte Grazie a giara Della prodigalità Ma ragazzi Dobbiamo andare a vedere Anche un altro fior All'occhiello Di questa nuova uscita E questo è Borrelod Savage Vabbè Adesso è in combo Anche con il fratello maggiore Diciamo Borrel Sword Quindi abbiamo qualsiasi cosa Ripetiamo l'effetto Borrelod Savage Il sincro Dice che Una volta evocato specialmente Possiamo riprendere Un mostro Link dal cimitero Vedete infatti Lo abbiamo sul campo Il mostro link Che è nella zona Carte magia Perché è nella zona Carte magia Perché lo utilizziamo Come equipaggiamento Il mostro link Utilizzato come equipaggiamento Ripreso dal cimitero Dona la metà Del suo attacco A Borrelod Savage E infatti lo vedete È a 4.500 Borrelod Savage Si pompa di segnalini Pari al rango link Del mostro utilizzato Come equipaggiamento E qui arriva il bello Perché guardate quante volte Sta negando Borrelod Savage Borrelod Savage Può annullare Effetti di mostri Andando a togliere I segnalini che gli sono stati messi sopra Quindi vedete che in questo caso Abbiamo praticamente qualsiasi cosa Mostri che non possono essere distrutti In battaglia Come Borrelod Mostri che negano Tutto Tutto Ma andiamo a vedere La carta più discussa ragazzi La Witch Strike Colpo della strega Anche qui andiamo a vedere l'effetto Può essere attivata Solo quando l'avversario Va a negarci In qualsiasi modo L'attivazione Di un effetto Di un mostro O di una carta Ok Una volta che accade questo Noi con colpo della strega Gli andiamo a distruggere Tutte le carte In mano E che ha sul terreno Quindi capite benissimo Un panico Molti stanno dicendo Però Ragazzi Però è difficile Che l'avversario Mi arrivi a negare qualcosa Nel momento in cui ho settato Witch Strike Witch Strike è molto lento Adesso vediamo Siamo contro Altergeist Uno dei mazzi Neghini Diciamo Per eccellenza Vediamo quello che succede Ok L'avversario attiva Manifestazione Altergeist Va bene Noi attiviamo una carta Magia L'avversario ci nega con Hextia Va bene Negato Fa tutte le combo Che deve fare Witch Strike Distrutto tutto Boom Letteralmente Un'esplosione Andiamo a vedere Un altro esempio Ok Anche questa è un'occasione Molto propizia Perché l'avversario Ha sul terreno Drago Infinito Ok Lui ci attiva Transience Noi attiviamo Transience Su Cyber Drago Infinito Cyber Drago Infinito Utilizza l'effetto Ed è l'occasione È il momento Andiamo con la nostra bomba A mano Boom Distrutto Tutto L'avversario non si ritrova più nulla in campo E ragazzi Questa lo lascia passare Per la vittoria Bene Un'infarinatura generale Direi che l'abbiamo data Io voglio ringraziare Ancora Latitudine 42 Grazie a Latitudine Noi abbiamo fatto Questo sneak A tempo di record Io ringrazio Come al solito Riccardo Il gestore Ma anche gli squisiti Simone e Alessandra E tutto l'entourage Che c'è Perché come sempre Si fanno letteralmente Si può dire No Forse è meglio di no Si fanno letteralmente In due Per essere sempre super riforniti E fare ogni tipo di torneo E come ci siamo riusciti noi Puoi farcela anche tu Anche te che sei dietro lo schermo Se abiti verso Roma O nel Lazio O vieni a fare una vacanza nel Lazio Facci un pensierino Qui da noi potresti trovare le carte che ti mancano O fare il torneo Che non hai veramente mai fatto Spero che il video ti sia piaciuto Mi raccomando iscrivetevi Se siete nuovi Attivate la campanellina Perché avete visto Siamo sempre super aggiornati Oltre al fatto che noi saremo Se Dio vuole La community più grande E forte Di Youtube Italia Quindi vieni anche tu Unisciti anche te A noi Se sei invece un over di ritorno Questo qua è da condividere ragazzi Condividi questo video Condividilo con tutti i tuoi amici Così farei vedere Il canale degli over In cui ci sei Anche te Proprio te Caro o cara over Come sempre Stay over Stay over Stay over Stay over Stay over